Ciao a tutti, come state? Oggi vorrei parlarvi di brochet e vi vorrei mostrare qualche confezione natalizia che è stata proposta per quest'anno con davvero, partendo dal presupposto, che erano dei pack fantastici sono veramente veramente belle vi mostro in catalogo cosa abbiamo e poi ve le mostro proprio reali perché è qualcosa, o qui come potete vedere dallo spoiler allora, le due profumazioni proposte quest'anno sono arancia fondente e mora golosa queste sono le due limited che sono uscite per questo Natale arancia fondente si presenta con un packaging arancione ed è un mix tra arancia e cioccolato fondente quindi è una profumazione proprio perfetta per le nostre giornate invernali mentre mora golosa è una profumazione un po' più sbarazzina ma è veramente veramente buonissima allora, così è come si presenta la nostra arancia fondente questo è il packaging e in gamma quest'anno il brochet ci ha stupito perché ha messo tantissimi prodotti ovvero il sapone mani il gel digerizzante mani lo scrub olio per il corpo la crema mani l'ha fatta in diversi formati perché l'ha fatta da 30 ml, da 50 ml poi ha fatto in diversi formati il bagno schiuma ovvero il gel doccia scusate l'ha fatto da 50 ml, da 100 ml da 200 ml, da 400 ml e poi ha fatto il balsamo labbra quindi veramente veramente e la candela quindi veramente tantissimi prodotti sia di arancia fondente sia di mora golosa adesso vi faccio vedere l'altro pack fantastico fantastico veramente tutti questi prodotti si possono comprare sia singoli sia nei set ovviamente nei set convengono un pochino di più e poi i set sono veramente veramente belli oltre questo poi troviamo dei set per quanto riguarda i capelli per quanto riguarda il corpo di profumazioni anche che comunque abbiamo in linea permanente e anche profumi con fariti di profumi veramente veramente belli allora parto con mostrarvi i prodotti singoli che ho e poi vi faccio vedere dei set come esempio io come prodotti singoli ho il bagno schiuma il gel doccia che bello così e il balsamo labbra che specchierà tutto perché è ancora confezionato poi vi mostro partendo da il set che costa meno in assoluto ovvero 4,95 euro guardate che bello come si presenta bene e ce l'ho di tutte e due le linee 4,95 euro all'interno troviamo la crema mani da 30 ml e l'igienizzante mani questa è la scatolina che si apre e l'igienizzante mani da 30 ml anche lui carinissimo io penso che sia un'idea un pensierino regalo veramente carino costa poco ma fa la sua scena la sua figura veramente veramente interessante infatti io ne ho comprati due questi due sono i miei ovviamente ma ne ho venduti anche altri e è questo se lo faccio vedere sul catalogo è questo 4,95 euro se si hanno per dire delle colleghe magari più colleghe a cui bisogna fare giusto un pensierino per non lasciare a mani vuote magari hai 5 o 6 colleghe con 30 euro te la sei cavata secondo me veramente ottimo ovvio è che anche i prodotti singoli si possono regalare e impacchettare e si fa comunque una bella figura poi salendo di prezzo abbiamo davvero tanti tanti set adesso ve ne mostro qualcuno arrivo me ne sono dimenticata uno questi set che vi mostro sono in tutte e due le profumazioni ci sono io vi mostro quelli che ho qui allora vi mostro di Mora Golosa che ho comprato per me vi mostro questo set questo set costa 9,95 euro e ha il bagno doccia da 400 ml e lo scrub in oil che è un prodotto fantastico che sto già utilizzando da 150 ml vi dico costa 9,95 euro costerebbe 13,95 euro comprando i prodotti singoli questo è il bagno doccia vedete quanto è grasso veramente grande grande e questo è lo scrub in oil questo prodotto è veramente buonissimo vedete che l'ho già utilizzato è veramente buonissimo è un prodotto è uno scrub queste particelle scrub queste particelle scrubanti sono messe in una pasta veramente gelosa ma confortante si fanno si fanno passare benissimo sul corpo e una volta che le risciacquate si trasformano in latte e si risciacquano tranquillamente e facilissimamente il set è composto da i due prodotti e la scatola che è in cartone che io al momento non ho perché appunto questi due prodotti li ho comprati per me veramente veramente un ottimo prodotto ottimi prodotti e un'ottima profumazione c'è anche di arancia fondente poi vi mostro un altro prodotto che ho singolo che non vi ho fatto vedere prima che è la crema mani questa è la crema mani quella da 50 ml sempre di moragolosa che ha un prezzo di 3,95 poi di tutte e due le profumazioni ce li ho e sono questi due cofaretti che sono veramente carini allora da che parte ve li faccio vedere allora questi sono costano 9,95 e all'interno hanno un sacco di cose c'è il gel doccia da 50 ml la crema mani da 30 ml poi la confezione parla da sola il balsamo labbra e l'olio da doccia guardate che belle che sono le confezioni che cioè si presentano veramente veramente bene questo viene 9,95 e c'è sia di moragolosa sia di arancia fondente quindi ci sono quattro prodotti all'interno e questo è il set come si presenta sull'album questo è moragolosa e questo è arancia fondente ne vale veramente la pena hanno delle profumazioni buonissime prezzi ad hoc sono prodotti veramente validi un altro set che vi mostro ha sempre 9,95 è questo bellissimo set di bagno crema di questi gel doccia di Yves Rocher sono un fiore all'occhiello di Yves Rocher se li avete provati fatemi sapere nei commenti perché sono dei prodotti veramente ottimi e must have dell'azienda e all'interno troviamo sono tutti gel doccia da 50 ml troviamo quello al cocco maniglia 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 e tè bianco ha il fiore di loto ha i fiori d'arancio e mandorla fiori di terè e yang y yang e mango coriandolo il mio preferito è la maniglia come dicevo prima la maniglia e tè bianco e anche fiori di terè e yang y yang mi piace tanto infatti ce l'ho in full size da utilizzare ancora da utilizzare perché avevo provato la mini taglia poi vi mostro dei prodotti un pochino diversi dal solito non sono in linea permanente perché alcuni sono prodotti novità ma vi volevo mostrare un altro set da 9,95 che avevo comprato ma ho rivenduto perché si è rivenduto veramente facilmente e mi è dispiaciuto non ricomprarmelo per me se lo trovo ma non lo troverò perché ovviamente questo è un altro set molto molto carino che si presenta bene la confezione di cartone all'interno ha tutte queste mini taglie che però fanno veramente provare il prodotto e amare i prodotti questo è della linea è un kit della linea a mamma argane e rosa veramente calda speziata fantastica e all'interno c'è il bagno doccia la crema mani il latte corpo l'olio da doccia e il cofanetto ovviamente veramente veramente top buonissima l'ho rivenduta e mi sono appena di non averla ricomprata c'è mio figlio che si sta svegliando e allora alzando un pochino il tiro quindi i prezzi vi mostro un set da 19,95 ovvero questi set qua questi qui che sono composti dal profumo e dal gel doccia e dal cofanetto ovviamente sempre in cartone vi mostro io ho questo qui alla rosa la confezione in cartone con questi disegni fantastici semplicissima da incartare e all'interno c'è il gel doccia e il profumo sono incartati singolarmente anche il profumo quindi se esempio con questo cofanetto da 19,95 volete farci due regali potete riuscirci benissimo e c'è il profumo da 100 ml e il bagno su chiuma da 200 ml si presenta veramente buono questa profumazione di rosa è fantastica e oltre la rosa troviamo troviamo vi faccio vedere tè verde fiori di ciliegio alla verbena e al mughetto e al mughetto secondo me è veramente una fantastica idea regalo questa poca spesa e massima resa rimanendo su cofanetti profumi eccetera vi mostro altri due che ho in casa allora questo cofanetto anche questo creato per questo Natale 2021 My Vanilla Garden qui a 22,95€ avete il profumo da 100 ml e il gel dolce da 200 ml vi dico solo che io avevo comprato prima che uscisse questo solo il profumo l'ho pagato 19,95€ quindi un ottimo prezzo questo e la fragranza dice frezzanti noti acidule di mora e arancia svelano un cuore di golosa vaniglia avvolgente sensuale vi faccio vedere il profumo questo è già aperto è mio io non amo i profumi alla vaniglia non è la vaniglia non è una profumazione che mi piace molto però qui mi sono fatta conquistare dalle noti di arancia e mora e questo è il packaging il profumo il packaging è veramente bellissimo il profumo è un profumo che tende comunque alla vaniglia ma è veramente un mix perfetto perché si sente l'arancio e adesso me lo spruzzo tanto non ho ancora messo il profumo oggi è una vaniglia fresca si sente tanto l'arancio così appena spruzzato si sente l'arancio che è buonissimo si sente la mora buono non è una vaniglia da mal di testa come dico io perché a me le profumazioni troppo calde mi fanno venire il mal di testa e la testa pesante invece questo si sente è una vaniglia che comunque rimane sul fondo ma molto fresca molto aggrumata ecco una vaniglia aggrumata e poi vi mostro che ancora ho in casa il profumo di un altro set questo veramente bello questi due set sono fantastici allora io vi mostro questo profumo qua questo set è composto da il cofaretto bellissimo il profumo che è il profumo master dell'azienda e il mascara il profumo è in una linea da collezione questa è la scatletta del profumo è un profumo da 100 ml ed è così come si mostra ed è il comune evidence che è il must have dell'azienda questa ha il pack però in linea limitata e che poi è quello che vedete qui perché in linea classica sarebbe così come quest'altro cofaretto quest'altro molto interessante perché ha il profumo da 50 ml il gel doccia e la crema corpo che in linea permanente non troviamo e quindi sono anche queste dizioni limitate vi voglio far mostrare vi voglio far vedere voglio far mostrare qualcos'altro che è comunque molto carino che troviamo in questo set in questo album in questi set da carizzi che si potete regalare ma potete anche comprare per voi perché comunque ne vale la pena questi sono altri set che convengono moltissimo per 30 euro neanche si ha tutti questi prodotti in full size questa bianca è un'altra linea che è stata prodotta questa è la linea karité che troviamo tutto l'anno sull'album ma gli è stato cambiato il packaging molto molto bello molto molto natalizio poi cosa vi voglio far vedere qualcos'altro magari sui capelli come dicevo all'inizio allora rimaniamo sul viso anche questi set si sono stati creati dove ci sono dei prodotti che troviamo tutto l'anno sull'album però sono venduti con questa pochette e comunque super convenienti perché per dire questo set con questi quattro prodotti che sono la gelia marina struccante 3 in 1 l'acqua micelare struccante il gel detergente ultra freschezza il gommage luminosità ultra freschezza questi quattro prodotti verrebbero a un prezzo pieno di 31 euro 80 qui li pagate 19,95 con la pochette in omaggio quindi veramente veramente conveniente vediamo poi cosa vi posso mostrare e ovviamente ci sono tutti i cofanetti con i profumi e le candele bellissime questa è un'altra linea che è uscita in edizione limitata per questo Natale e ovviamente non ci dimentichiamo dei nostri maschietti io ho venduto benissimo questo set qua da 19,95 dove c'è la scuola da barba in full sight il balsamo dopo barba e il trattamento barba il trattamento viso e barba ma anche più semplicemente questo set qua da 12,95 dove c'è il gel doccia lo shampoo che tanto sono due prodotti che si può utilizzare tutti in famiglia e la scuola da barba poi ovviamente c'è anche qui il fior all'occhiello dell'azienda il must have per quanto riguarda la linea uomo è questo profumo qua con il suo bagno schiuma e poi ci sono tutti gli altri vari profumi a 29,95 e poi cosa vi posso mostrare questo set bellissimo all'argan è una delle profumazioni che mi piace di più anche anche questa e vi dico l'olio corpo con i petali di rosa infuso all'argan è un prodotto veramente ottimo e vi dicevo vi volevo mostrare qualche set capelli ecco qua a 12,95 si ha shampoo balsamo e crema ricci o qui shampoo balsamo e maschera e ne vale la pena perché a prezzo pieno i prodotti questo qua della Nia Ricci verrebbe a 12,95 e a prezzo pieno verrebbe 19,80 vi dico quanto conviene e questa altra linea questa qua per nutrizione no scusate questa è la nutrizione invece la linea Ricci verrebbe 21,80 veramente veramente buono e poi una chicca che troviamo in fondo all'album è questo set della linea Caretè dove troviamo in omaggio la confezione e la tazza con il suo coperchio per mantenere la bevanda calda ottimo vi ho fatto vedere tutto quello che io già ho in casa alcune cose se riuscirò no non devo rivedere niente di queste cose perché alcune cose sono mie e alcune cose le terrò per fare penso dei regalini di Natale e basta fatemi sapere qualcosa se queste linee le avete già annusate curiosate se vi interessa entrare in questo mondo se volete avere delle informazioni io vi mando un bacio e alla prossima ciao